Zaia, Ciambetti, Possamai parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. Ulso 8 aumenta la pressione ospedaliere in area non critica a 208 i ricoverati. La fiera della caccia rinviata all'anno prossimo, primo evento del 2022 annullato dal Covid. Blitz contro spaccio e degrado, 22 le persone identificate. Auto esce di strada e si ribalta, muore la conducente di 82 anni. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Rete Veneta e di TG Vicenza. Lo avete sentito dai titoli, il Consiglio regionale ha scelto i tre grandi elettori che parteciperanno proprio alle votazioni per nominare il nuovo Presidente della Repubblica. Si tratta di Luca Zaia, Roberto Ciambetti e Giacomo Possamai. Votanti numero 46 hanno ottenuto voti Zaia 37, Ciambetti 36, Possamai 9, Soranzo 1. Risultano eletti Zaia, Ciambetti e Possamai. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale e il capogruppo del principale partito d'opposizione, due vicentini e un trevigiano, parteciperanno all'elezione del prossimo capo dello Stato in qualità di grandi elettori del Veneto. Il Parlamento è stato convocato in seduta comune per la prima votazione il 24 gennaio. Immagino che il 24, la prima votazione, sarà una votazione che non ci porterà a un'elezione. Visto considerato che il Covid imporrà una votazione al giorno, probabilmente darà vita a un 24 ore di riflessioni tra le segreterie del partito, visto considerato che il Presidente della Repubblica lo allegge il Parlamento. Le previsioni sono difficili perché il tentativo è di convergere su un nome che possa raccogliere il maggior consenso possibile e il PD, ad esempio, non intende trattare sulla candidatura di Berlusconi. Sono schermaglie che da qua il 24 gennaio le vedremo declinate in tutte le maniere. È una cosa che avviene ogni sette anni, quindi non mi sto stupendo di nulla. Capiremo e vedremo nei giorni immediatamente precedenti alle prime votazioni quella è il cyberoclima. Ci serve un Presidente della Repubblica che assicuri all'Italia nel prossimo anno e mezzo, ma ovviamente anche oltre, stabilità per portare avanti il PNRR e ovviamente la guerra contro la pandemia. Giacomo Possamai non ha partecipato alla votazione che lo ha nominato grande elettore in quanto risultato positivo al tampone, una condizione che non ne pregiudica la carica visto l'ancora ampio margine disponibile. Tra i consiglieri intanto nessuno azzarda previsioni sul prossimo inquilino del Quirinale. Credo che si debba trovare una soluzione che riesca a gestire sia l'elezione del Presidente che la prosecuzione del Governo perché se no ci troveremo scoperti sul fronte dell'esecutivo. È una situazione in divenire, nel senso che la vera partita poi inizierà a partire dalla terza votazione e allora là capiremo veramente che cosa si intende fare. Sono fasi delicate nelle quali non intendo entrare per quanto riguarda appunto il ruolo che ho all'interno della regione del Veneto. Apriamo la pagina dedicata all'emergenza della pandemia. Il 23 gennaio è previsto il picco di contagi, il 12 febbraio quello dei ricoveri. Questo è il modello sulle previsioni dell'andamento dell'epidemia Covid in Veneto. Intanto si apre la questione legata alle quarantene. È una salita di cui ancora non si vede il culmine, quella del Covid in Veneto. Per arrivarci, secondo i modelli di previsione, occorreranno almeno altri dieci giorni. I contagi hanno registrato nelle ultime 24 ore una nuova impennata. 21.504 nuovi casi con 29 decessi. Le giornate di oggi valgono cinque giornate della peggiore ondata del dicembre 2020. Siamo preoccupati perché siamo a 1.900 persone ospedalizzate, delle quali 215 in terapia intensiva e che sono per il 75-80% non vaccinate. La sfida è una sfida quotidiana. Abbiamo una previsione in un modello che ci dà il picco dei contagi al 23 gennaio e il picco delle ospedalizzazioni verso il 12 febbraio. Speriamo non sia così. Il momento di maggior stress degli ospedali lo si avrà quindi tra un mese, anche se l'incidenza dei ricoverati è nettamente inferiore a quella di 12 mesi fa. Se il numero dei pazienti delle terapie intensive rimane stabile a 215, continua a salire quello dei ricoverati in area non critica, 1.680, con un aumento nelle 24 ore di 88 unità. Gli attualmente positivi nell'intera regione hanno superato la soglia dei 200.000, ma tra quarantene da contatto e isolamenti fiduciari, i veneti costretti a casa sono molti di più. E per i lavoratori si apre una questione molto seria. Dal 1 gennaio l'Inps non parifica più il trattamento economico della quarantena a quello della malattia. Questo significa che molti che verranno quarantenati dovranno prendere ferie oppure saranno assenze non retribuite. Direi che è anche un incentivo, in minima parte, anche a non dichiararsi più magari contatti positivi. Quindi spero vivamente che a livello nazionale la quarantena, se si fa, venga ripristinata al pari di una malattia. Zaia non esita a sottolineare come questo sia lo stato attuale il più grosso problema in campo, ribadendo l'invito al governo a rifinanziare la copertura dei periodi di assenza dal lavoro causa Covid. Covid nell'Ulss 8 Berica sono attualmente 208 i pazienti ricoverati. Aumentano i contagi e preoccupa l'elevata pressione ospedaliera, specie in area non critica, che costringe a rimodulare l'attività nei vari reparti. Altri 8 i ricoveri per Covid delle ultime 24 ore. Su quasi 66.000 tamponi effettuati dall'Ulss 8 Berica negli ultimi 7 giorni, sono 11.700 i nuovi positivi, quasi il 50% in più rispetto alla prima settimana di dicembre. Noi siamo a 208 ricoveri oggi, sono soprattutto pazienti che sono entrati in area non critica, quindi nella medicina e malattie infettive. Il 50% di questi non è vaccinato, però ci sta obbligando a modulare l'attività ospedaliera sulla base di questi nuovi ricoveri. E ad un giorno dalla ripresa scolastica già si evidenziano 20 nuove positività, concentrate soprattutto nella fascia 0-6 anni, non coperta da vaccino, bimbi che frequentano nidi e materne. 10 appunto sulla fascia 0-6 anni riscatta già la quarantena per il primo caso. Gli altri invece sono distribuiti fra scuole elementari e scuole medie. Alle elementari abbiamo 4 classi interessate, in questo caso abbiamo già dato appuntamento al tempo T0, alle famiglie per i tamponi in modo da intercettare eventuali altri positivi. Per le medie invece attendiamo ulteriori sviluppi per l'applicazione della DAD. Intanto si procede sul fronte vaccinazione con quasi 35.000 dosi somministrate nell'ultima settimana. Forte spinta delle vaccinazioni pediatriche con l'open day di domenica che ha fatto registrare 639 prime dosi per la fascia 5-11 anni. In crescita negli ultimi giorni anche le prenotazioni per la prima dose, specie per la fascia degli over 50, soggetta ad obbligo per cui si registrano 1390 prenotazioni da qui a metà febbraio. Tamponi come strumento di monitoraggio e di prevenzione e a tal proposito l'urso ottoberica viene promossa dagli infermieri. Prevenire è meglio che curare, principio antico che tanto più vale oggi nell'epoca della pandemia. Prevenire la diffusione del covid innanzitutto individuando i positivi e tracciando i loro contatti. In questa guerra con l'epidemia che assedia gli ospedali, i tamponi rappresentano mura alte e solide per arginare i contagi. Mura che l'azienda sociosanitaria Berica ha costruito bene. Lo dicono i numeri, lo ribadiscono gli infermieri. All'urso ottoberica sicuramente la macchina dei tamponi sta funzionando con grossi sacrifici da parte di tutti ovviamente e grossi investimenti da parte dell'azienda. Se pensiamo che il tempo di processazione di un tampone è come minimo un quarto d'ora, i tempi di attesa sono veramente pochi e nel giro di mezz'ora l'utente ha anche il risultato in mano. A promuovere l'urso ottoberica è il segretario provinciale di Vicenza del Nursind, Andrea Gregori, che lavora in prima linea nel centro tamponi di Torri di Quartesolo. Qui può vedere con i suoi occhi come funzionano le cose e percepire direttamente gli umori dei cittadini. L'urso otto per i tamponi ha messo a disposizione svariate linee in varie sedi. Ne abbiamo sei al pomeriggio a Torri di Quartesolo, ne abbiamo cinque alla fiera e poi abbiamo anche dislocazioni su Montecchio e su Noventa e su Vallagno. E quindi una dislocazione geografica ben coperta, personale che viene incentivato ad andare ai centri tamponi con retribuzione aggiuntiva e spazi adeguati, perché gli spazi adeguati sono fuori dagli ospedali. Gli ospedali non hanno spazi sufficienti per questo tipo di utenza e quindi vanno trovati degli spazi fuori, cosa che non è mai stata fatta all'Ulso 7. Insomma, gli infermieri promuovono a pieni voti la gestione tamponi dell'Ulso 8 Berica. Nell'Ulso 8 l'efficienza si dimostra dalla soddisfazione dell'utenza, mentre all'Ulso 7 Piedemontana è chiaro a tutti che l'insoddisfazione dell'utenza non solo è palese, ma viene anche poco percepita da un'amministrazione che evidentemente ha altre sensibilità. Conclusione con un messaggio al direttore generale dell'Ulso 8, Maria Giuseppina Bonavina, e sono parole di miele. Il messaggio che posso mandare alla direttrice Bonavina è che sicuramente con lo sforzo di tutti, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista concreto delle prestazioni, stiamo dando una buona risposta ai cittadini. E sempre in tema di Covid, diamo la notizia che la fiera della caccia è il primo grande evento del 2022 annullato a causa del virus. It's show, la fiera delle armi, quest'anno non si farà. Prima rinviata e poi annullata già lo scorso anno a causa della pandemia, l'importante evento fieristico dedicato alla caccia e al tiro sportivo è stato rinviato al 2023, sempre a causa del Covid. L'elevato numero di contagi, infatti, ha convinto gli organizzatori ad annullare l'evento programmato a metà febbraio, rinviandolo di un anno. La manifestazione capace di mobilitare 40.000 visitatori è il primo evento fieristico cancellato del 2022. E adesso la cronaca che ci porta in città a Vicenza. Ancora un blitz antidegrado, 22 le persone identificate. Quadrilatero passato al setaccio dalle forze dell'ordine durante il blitz di ieri pomeriggio. Via Gorizia, Piazzale Bologna, Via Napoli, il Giardino Salvi. È qui che si sono concentrate le pattuglie antidegrado della polizia locale con i carabinieri e le unità NOS e Cinofila. Con il cane antidroga aria che ha rinvenuto nel Giardino Salvi, nelle vicinanze di un gruppo di ragazzi identificati, un involucro di hashish abbandonato alla vista del personale indivisa. L'intervento che ha preso il via dal nuovo distaccamento di Campomarzo ha riguardato le aree in cui i residenti lamentano di recente la presenza di persone poco raccomandabili. Il risultato finale è stato di 22 persone identificate per la maggior parte di nazionalità straniera. Attraverso il sistema informatico, interforze, i carabinieri di Vicenza hanno proceduto alla verifica dei documenti dei soggetti identificati e alla loro opposizione sul territorio nazionale. Per un 24enne è stato evidenziato un provvedimento di rintraccio per una notifica. Uno dei giovani, infine, è stato sanzionato per la violazione dell'ordinanza anti-alcol perché è trovato in possesso di una bottiglia di vino. Ci spostiamo adesso a Poiana Maggiore dove un drammatico incidente è costato la vita a una 82enne. Poiana Maggiore, una donna di 82 anni, ha perso la vita questa mattina a seguito di un incidente stradale. L'anziana signora, alla guida della propria vettura, stava percorrendo via Ponte Cazzola verso le 10 quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perduto il controllo del mezzo finendo fuoristrada. L'automobile ha travolto il pilastro di recensione di un'abitazione finendo coricata sul fianco. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della pensionata. Inutili numerosi tentativi di rianimarla eseguiti dal personale del SUEM che alla fine ha dovuto constatarne la morte. Vicenza attende i fondi del PNRR, abbiamo sentito a riguardo il sindaco Francesco Rucco. Per mettere a terra le risorse del PNRR è indispensabile il coinvolgimento dei governatori, dei sindaci, degli amministratori. Obiettivo, riqualificare i centri urbani e favorire l'inclusione sociale. I fondi del PNRR non sono perduti. Il tour politico del ministro agli affari regionali riporta fiducia anche a Vicenza. È già stato approvato in finanziaria un emendamento per fare in modo che 2 miliardi di residui di competenze regionali possano essere finalizzati anche alla rigenerazione urbana, anche al recupero di questi progetti. A Vicenza queste risorse sono già finalizzate con progetti per un totale di 45 milioni di euro. Dalla riqualificazione del villaggio Giuliano a Campedello, alla zona tra i Giardini Salvi e Contrade la Rocchetta. Verranno restituite alla città l'ex Fiera e l'ex Cinema Arlecchino che diventeranno spazi pubblici al servizio dei cittadini. Tornerà a risplendere la loggetta Longhena e verrà messa in sicurezza l'ex Scuola Giusti. Verrà rinnovata l'edilizia residenziale, riqualificati gli alloggi popolari e l'ex Caserma della Guardia di Finanza. Un altro obiettivo è il parcheggio all'ex Macello e l'ampliamento del pensionato San Pietro. Poi c'è la riqualificazione di Campo Marzo e molto altro ancora. I progetti erano diversi e importanti. C'è il tema dell'ex Macello, il tema della riqualificazione di Campo Marzo che comunque continua con i soldi propri del comune. Ma è chiaro che se arrivano soldi esterni preferiamo investirli sulla rigenerazione anche urbana. Il tema di Campo Marzo è un tema di rigenerazione urbana. Ci sono altre aree sulle quali volevamo intervenire, tra cui anche piste ciclabili, scuole. Quindi tutti interventi, come dimostrato anche in occasione della visita alla scuola Prati di oggi, i soldi poi vengono fatti fruttare al meglio a favore della collettività. Questo è un tema importante e anche di serietà da parte di questa amministrazione. Ora aspettiamo però i fatti concreti. Ci vogliono le risorse e speriamo che alle parole del Ministro seguano poi i fatti che concretizzino finalmente l'erogazione delle risorse. Alle 21.15, appuntamento con Focus del nostro direttore Luigi Bacialli. I ospiti di questa sera sono Anna Maria Bigon, Marco Brigo, Giorgio Conte, Corrado Cortese, Marco De Blasis e Michele Toaldo. È davvero tutto per questa edizione di TG Vicenza. Io vi auguro una buona serata e vi lascio al meteo.